Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Come l'ha spiegato bene il professore, dei cittadini di Gaza intrappolati. Vogliamo chiederci come mai siamo arrivati a questa situazione? Vogliamo chiederci se la politica americana è necessariamente così condizionata come il dottor Mieli sa benissimo dalle lobby israeliane, dalle lobby ebraiche. Può l'Europa, potrebbe, scusi l'Europa, fare qualcosa di diverso? Vi ricordo che l'unico mediatore che oggi c'è in campo è la Turchia, che ha contatti con Hamas. Guarda un po', la Turchia non ha considerato Hamas un'organizzazione terroristica e oggi è l'unica potenza Nato che può parlare con Hamas, può parlare con la Russia e può parlare con Israele. Noi occidente, di fronte a un possibile massacro della popolazione di Gaza, vorrei chiedere al dottor Mieli, ma quali carti abbiamo? Quali carti abbiamo da giocarci se no starceli in salotto e fare conversazioni a Mene? Ed è questa la politica Nato della vecchia Europa, anzi io direi, che è morta. Perché Andreotti nel 2006, me lo diceva l'ambasciatore che è stato in Libano, Ino Cassini, durante una discussione in Senato, erano i tempi se non sbaglio della guerra in Libano, Andreotti disse una frase rivoluzionaria che neanche l'intelligenza oggi dice. E Andreotti non era il mio politico favorito, io seguivo Bocca e le sue filippiche sferzanti contro Andreotti. E cosa diceva Andreotti, ve lo ricorderete? Se ognuno di noi nascesse in un campo di concentramento e non avesse la possibilità di assicurare un futuro diverso ai suoi figli, diventerebbe terrorista. Allora